Per mesi hanno creato un ponte solidale tra Valtellina e Ucraina, senza clamori, quattro i viaggi affrontati per portare beni di prima necessità. Un'operazione che ha visto il coinvolgimento di diversi volontari, sia ucraini sia italiani. A lanciare l'appello Anna Dancenco, infermiera ucraina che da vent'anni vive in provincia di Sondrio. Gli alpini di San Giacomo di Teglio, guidati da Donato della Moretta, hanno risposto presente. A loro fianco il Comune di Teglio e Fondazione Pro Valtellina. Ci siamo attivati su richiesta di una nostra concittadina nativa dell'Ucraina, che vive qui da noi, ha famiglia qui da noi, e la richiesta è arrivata un po' inaspettata, la quale come alpini senz'altro non sappiamo mai dire di no. Questa signora si è rivolta all'amministrazione comunale e tramite il nostro signor sindaco la cosa è giunta qui, è arrivata al sottoscritto e come tutte le cose inaspettate e le cose impreviste non arriva mai un no. Pro Valtellina ha sposato immediatamente la nostra idea, su mia richiesta personale a nome del gruppo alpini, ci ha dato, diciamo, 5.000 euro per questa operazione. Il materiale umanitario ha raggiunto Rivne, città che si trova nel nord-ovest dell'Ucraina, a 200 chilometri dal confine con la Polonia. Ci sono stati più viaggi sostenuti a livello volontariato da parte di ragazzi provenienti dall'Ucraina. Abbiamo caricato i mezzi con i quali loro venivano, materiale depositato in piccole strutture del paese, e poi, diciamo, devo dire, è venuto perfino il papà e la mamma di questa nostra concittadina a prendere del materiale. Il mese di agosto questa signora col proprio marito ha fatto pure lei un viaggio in questi paesi e siamo felici e contenti di avere portato a termine, diciamo, un percorso che ci eravamo prefissati di fare e come dei veri alpini ha detto quando diciamo sì, noi ci siamo. Anna Dancenco, che in questa complessa operazione ha potuto contare sul sostegno di suo marito Roberto Spaletta, fa sapere che l'iniziativa solidale prosegue. Ecco il numero di riferimento.